Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Chiara Ferragni ha partecipato al matrimonio della sua migliore amica Veronica Ferraro e di Davide Simonetta. In questo lieto evento, Chiara faceva da testimone della sposa. L'influencer e il produttore musicale si sono sposati con Rito Civile in provincia di Lecco. Con loro erano presenti familiari, amici e tantissimi VIP. Dopo la cerimonia, però, è accaduto qualcosa. Proprio durante la cena, sempre all'interno dei giardini decorati a nozze, Chiara si è commossa. Ecco il motivo. Chiara Ferragni ha postato un video che ha attirato l'attenzione dei fan che si sono chiesti se la sua fosse una frecciatina nei confronti dell'ormai ex marito Fedez oppure una specie di messaggio in codice per quello che in tanti definirebbero come il suo nuovo amore, e cioè Silvio Campare. L'influencer, infatti, ha ripreso una coppia di signori che ballavano divertiti a ritmo di musica e ha scritto «Posso avere un amore così», il tutto condito con l'emoticon commossa. Un altro toccante momento è stato quando Chiara Ferragni si è nuovamente commossa leggendo la sua dedica alla migliore amica Veronica Ferraro. Ecco la dedica di Chiara, vero, in uno dei momenti più difficili della mia vita, a febbraio dell'anno scorso, eravamo a guardare le nuvole da una terrazza a rapallo. La sera prima aveva piovuto e quel giorno il sole non si vedeva ma c'era uno spiraglio di luce e tu mi hai detto che anche per me sarebbe tornata. Tendiamo a dimenticarci cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni, tu, più di tutto, mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi cazzata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia. Grazie a tutti.